Operazione soldi in fumo della Guardia di Finanza tra le province di Torino, Verbania e Varese. Corruzione, truffa ai danni dello Stato e falso in atto pubblico. Queste le ipotesi di reato a carico di quattro persone arrestate ai domiciliari dalla GDF di Torino su ordine del GIP del Tribunale di Verbania. Disposti i sequestri di denaro e beni per 140.000 euro. Le indagini hanno riguardato l'appalto pubblico del valore di 2,8 milioni di euro indetto per il completamento del Palazzetto dello Sport di Gravellona-Toce. Secondo il quadro accusatorio, ricostruito attraverso intercettazioni, servizi di pedinamento e osservazione, sequestro ed esame di numerosa documentazione, il responsabile della direzione dei lavori in qualità di pubblici ufficiali e all'insaputa del comune dell'entroterra verbano, invece di operare nell'interesse dell'ente, si sarebbero adoperati per far conseguire indebiti ed illeciti margini di profitto all'impresa giudicataria dell'appalto per circa 140.000 euro. Sarebbe emersa infatti la commissione di interesse tra i due referenti della società torinese aggiudicataria dell'appalto e i due soggetti incaricati dal comune della direzione dei lavori, i quali si sarebbero resi disponibili a predisporre un progetto esecutivo delle opere complementarie e una perizia di variante della struttura contenenti preventivi maggiorati o falsi, con l'obiettivo di far ottenere benefici economici in termini di risparmi di spesa all'impresa. Il profitto della truffa ai danni dello Stato è stato oggetto del sequestro preventivo per equivalente che i finanzieri hanno eseguito su conti e beni patrimoniali dell'impresa e degli arrestati contestualmente alle misure cautelari personali. Nel corso delle investigazioni, durate oltre un anno, le fiamme gialle avevano già monitorato lo scambio di 2.500 euro in contanti tra l'imprenditore e il direttore dei lavori, somme sottoposte a sequestro e che rappresenterebbero una parte del prezzo della corruzione. Grazie. Grazie. Grazie.